salve a tutti siamo qua io francesco e maurizio e maurizio maragoni perché stiamo facendo questa video lezione su collegare stampante wireless attraverso il router o un access point quello che danno connessione al pc allora praticamente questo pc è collegato in internet attraverso questa rete che si chiama team e noi vogliamo che il stampante la stampante si connetta al router e diventi stampante di rete certo quindi noi attraverso il menu stampante da l'ambiente stampanti qui vogliamo collegarla non con il cavo usb come in questo caso ma come una stampante di rete è una stampantina cano adesso faremo vedere come va configurata la stampante perché possa diventare un servizio per la rete e quindi una operazione da fare è sul pc ma prima di farla sul pc dobbiamo farla sulla stampante adesso metteremo la telecamera sulla stampante allora una piccola precisazione in questa stampante cioè ogni stampante ha un percorso diverso per la connessione con il router adesso vi facciamo vedere questa canon qua comunque il concetto di base è che prima si fa riconoscere la stampante al router e quindi cercare la rete da a cui collegarsi viene richiesta la password si inserisce la password nella stampante una volta vista nella rete la stampante poi si procede con il computer adesso raccordiamo la stampante ecco un'altra cosa mi è venuta in mente che bisogna che i driver della stampante ci siano già nel computer quindi qua vedete che noi l'avevamo già installata significa che i driver ci sono già andiamo a fare l'operazione wireless eccoci questo è il pannello di configurazione della stampante noi abbiamo scelto connessione manuale do ok lui sta cercando le router o l'access point ecco qua eccolo qua vede che ci sono due indirizzi di rete noi ovviamente scegliamo il primo che è quello col quale è collegato infatti lui ha visto che ci sono lo stesso router distribuisce due reti wifi quindi noi scegliamo la prima in questo caso cioè scegliamo una sola rete adesso ci chiede di mettere la password adesso metto in pausa bene maurizio ha messo la password di rete quella che ammetteremo se ci avessimo il telefonino da connettere dall ok e aspetta che si connette ecco abbiamo connesso al router wireless la stampante ogni stampante diversa bisogna mettere la password c'è poco da fare quindi la guida è una guida di sistema è una buona guida di sistema quello che conta adesso facciamo vedere cosa succede con su di linux ok ok adesso configurata la stampante connessa alla rete wifi usb allora connessa alla stampante la rete wifi adesso però ribadiamo un concetto molto importante precedentemente la stampante era stata collegata a questa macchina via usb che era il modo più semplice per collegare una stampante in questo modo il pc ha caricato i drive della stampante adesso deve solo cambiare la strada al percorso non più via usb questi sono i driver l'indirizzo alla stampante è stata via usb è installata adesso ne aggiungiamo un'altra la strada stampante via rete trova una stampante di rete a prova l'ha trovata perché la stessa rete che da servizio a questa macchina qua servizi web da anche servizio stampante allora noi sceglieremo questa qui sotto perché questa ciai indirizzo vedete 192 168 punto 1 103 perché 102 sarà il computer che c'è qui di fronte e 101 è un altro che abbiamo acceso quindi adesso gli diciamo inoltre la richiesta la richiesta viene fatta alla rete ma pescando il driver che è questo eccolo lì allora io per sapere qual è scrivo rete wifi rete wifi diversificare il nome di questa della stampante quando è collegata via usb e quando è collegata via wifi applico stampa una pagina di prova approva anche noi ma stampo ok adesso aspetta un attimo che la rete faccia il suo servizio e la stampata dovrebbe stampare eccola qui che si sente spero chiudi questo chiudo apriamo bright e vediamo perché allora vedete eccola qua inserire a rete cui finì ecco basta per da errori perché il riconoscimento eccola gli atti partono prima che venga riconosciuta questa è la stampa wifi una volta finito la stampa con mi sparisce anche l'errore allora adesso apro un prova wifi sta un pa ecco la mettiamo al centro 18 anche di più 40 e vedrete che io vado in stampa e troverò la stampante usb e questa è la stessa stampante solo che connessa in due modi diversi esatto questo questa qui si sta pulendo le cartucce gli dico sta sprecando in più che è esatto la cana lo fa ogni volta non preoccupatevi sta roba qua è perché sta facciamo la coda di stampa qua noi sono gli evoli che sta stampando ecco la prova wifi stampa allora non c'è altro da dire perché tutta la difficoltà sta nel connettere la stampante alla rete introdurre la password e poi una volta fatto questo aggiungere aggiungere come abbiamo già fatto la stampante di rete e rinominarla in modo che si riesca a capire se la stampante è collegata via wifi o è collegata perché sennò il rischio è che quando si manda in stampa si manda su una stampante che non è non evade la stampa ecco quindi non è collegata solo per questo ecco sto stratagemma della reno tenete conto che ogni stampante ha la sua profilo di configurazione sul display della stampante e che quindi questo video tutorial riguarda in sostanza so di linea e basta non possiamo andare a fare video tutorial di tutte le stampanti wireless che ci sono sul mercato e per le guide di soli linux speriamo di essere stati chiari buona sperimentazione maurizio e francesco vi ringraziamo dell'attenzione